La correzione non è cura, o meglio, la cura non va intesa in senso strettamente terapeutico, ma passa attraverso tutto un regime di vita a cui l'internato è sottoposto, che ha della funzionalità sia sulla fisiologia del malato, è rigorosamente controllata la dieta, il soggetto è sottoposto a delle, chiamiamole, privazioni controllate, il soggetto è interessato in attività lavorative a cui non viene tanto attribuito un valore economico, commerciale, un valore produttivo, quanto un valore educativo, un valore di edificazione morale. Il lavoro nei processi di correzione non è tanto finalizzato alla produzione, quanto finalizzato all'edificazione morale del lavoratore, il lavoro come cura dell'anima, potremmo dire. Vi ricordo a questo fine ciò che avete sentito a proposito dell'ergoterapia nel manicomio di Collegno, giusto per ricordarvi che quello che stiamo cercando di fare qui è vedere quante delle idee, che ci sembrano lontane nel tempo, in realtà non siano mai morte e che siano lentamente trapassate sino a noi, magari convivendo in maniera disarmonica con altre idee e creando a volte quegli ingorghi, quelle confusioni concettuali che tanto conosciamo, ogni qualvolta ci mettiamo a discutere di temi un po' più densi, un po' più concettualmente spessi, elevati. Ecco, adesso io vorrei che prendeste una bella rincorsa, perché dobbiamo fare un salto, un salto in avanti. Abbiamo lasciato la data simbolica, il 1656, l'apertura dell'ospedale di Parigi ai poveri, destinato ai poveri, destinato a coloro che dovevano essere esclusi, e insieme ai poveri avremo anche tutte le deviazioni della società, e tra esse, in maniera indistinta, priva di uno status specifico, la follia. Adesso fate un salto con me. Dobbiamo prendere una bella rincorsa, perché dobbiamo arrendare avanti di 130 anni circa. Cioè dobbiamo arrivare in piena rivoluzione francese. È il 1793. La Bastiglia l'abbiamo presa cinque anni fa. Quattro, scusate. È il 1793, siamo all'ospedale della Bissetra. L'ospedale della Bissetra era un pezzo di questo sistema ospedaliero francese dedicato all'internamento dei soggetti marginali. E alla Bissetra viene assegnato un giovane fisiatra, un medico, Philippe Pinelle si chiama questo signore, ed è raffigurato in dei quadri meravigliosi, perché una delle sue prime decisioni dentro l'ospedale è quello di cominciare a separare i folli, propriamente detti, da tutti gli altri. Perché ai folli va riconosciuto uno status differente. I folli non hanno la stessa caratteristica del povero o del deviante generale. Il folle ha una sua natura specifica che va considerata, rispettata, e verso la quale devono essere applicate delle procedure e devono essere poste in essere delle conseguenze di alcune idee sulla natura della follia che non possono essere applicate anche agli altri. Per cui separiamo. Separiamo i folli dai non folli. Cominciamo un vero processo di concentramento dei folli, coi folli. Bello, direte. Finalmente riconosciamo alla follia una sua caratteristica specifica. In fondo c'è una bella differenza tra un folle e un sovversivo o un furioso. O genericamente un soggetto che ha una condotta sessuale sregolata. Ci sarà una differenza, no? Certo che c'è una differenza. E allora il folle è folle e va trattato come folle, cioè come un soggetto che è portatore di una malattia. Comincia a farsi spazio questa idea. Ma che cos'è questa malattia? E soprattutto come la trattiamo questa malattia? Bene, sul che cos'è questa malattia i dubbi continueranno ad affollarsi. Su come trattiamo questa malattia, invece, la soluzione è molto più semplice. Perché sì, è il caso di cominciare a immaginare delle strutture, delle strutture che però non siano dei reclusori. Siano sì dei luoghi di contenimento, ma in questi luoghi di contenimento nella limitazione dello spazio all'ospite, al forzato, deve essere garantita la sua giusta libertà, ma una libertà rinchiusa da mura che impediscano a questo soggetto di indulgere in condotte che possono essere nocive per tutti gli altri. E perché questa libertà? Vediamo. Vediamo qual è l'idea. Foucault la esprime sotto forma di un ragionamento schematico e la chiama l'idea del ritiro. Non è più una reclusione, è un ritiro. È un atto di separazione dal mondo che ha una finalità. Vi leggo. Punto primo. La funzione dell'internamento è di ridurre la follia alla sua verità. Cioè, capire esattamente cos'è la follia. Uno scopo diagnostico interessante. La verità della follia, punto due, è ciò che essa è. Meno il mondo, meno la società, e meno la contronatura. Cioè, la follia è qualcosa che deve essere studiata in modo isolato rispetto a tutte le altre cause che possono produrre dei comportamenti devianti. La follia è tutto ciò che non è stato prodotto, dice lui, dal mondo, dalla società, o dalla contronatura, cioè dall'esistenza di alcune deviazioni noi diremmo genetiche, predisposizioni alla devianza, criminalità intrinseca del soggetto. No, togliamo tutta questa roba e quello che resta è la follia. Punto tre. Questa verità della follia è l'uomo stesso in ciò che egli può avere di più primitivamente inalienabile. Tolto dunque tutte le possibili influenze che possono venire dal mondo, dalla genetica, dalla natura, chiamiamola secondo il termine giusto, o dalla società, quel che ci resta è un uomo, un uomo con delle caratteristiche che gli sono intrinseche, spogliato di tutto, rimane quest'uomo e la sua follia. Punto quattro. Ciò che nell'uomo è inalienabile è a un tempo la natura, la verità e la morale, cioè la ragione stessa. Qui abbiamo fatto un salto concettuale, ve ne siete accorti? Qui abbiamo fatto un salto logico perché abbiamo detto che cosa è l'uomo. Abbiamo inserito una concezione antropologica, abbiamo professato una verità che non dimostriamo su ciò che l'uomo deve essere e che cosa ha di più intrinseco, di più naturale l'uomo se non la ragione. E allora se isoliamo il folle e lo sottraiamo da tutto quanto fino a isolarne la reale natura, fino ad arrivare a risvegliare la sua umanità intrinseca, allora quest'umanità intrinseca non potrà che essere la ragione. E allora, punto 5 e chiusura, il ritiro acquisisce il potere di guarire in quanto riconduce la follia a una verità che ha un tempo, verità della follia e verità dell'uomo, a una natura che è natura della malattia e natura serena del mondo. Ritirandosi, separando, sottoponendo a un regime di vita non costretto ma sano, l'uomo folle potrà essere ricondotto alla sua umanità più autentica, per cui, in qualche modo, potrà essere guarito. la follia non è più quell'oggetto incomprensibile, non è più quella deviazione che è negazione della ragione, no, la follia può essere compresa e comprendere la follia, però, e qui state molto attenti, significa ricondurla alla ragione, significa guarirla, significa eliminarla. la follia può e deve essere attaccata dalla ragione, come? Qual è lo strumento? Lo strumento del ritiro, lo strumento della separazione dal resto del mondo, lo strumento sarà tutta una serie di prescrizioni che, attenzione, nascono da Pinel e dai suoi ritiri nati a seguito della sua esperienza presso le strutture reclusorie francesi, ma poi diventeranno la chiave di volta per tutte quelle formazioni che da questo momento in poi cominceranno a comparire come funghi in giro per l'Europa che conosciamo col nome di manicomi, luoghi in cui la follia ha il suo spazio singolare e in cui è possibile sperimentare delle pratiche il cui scopo è vincere la follia. ci lasciamo qui perché su questa soglia, su questa idea, dobbiamo vedere che cosa è stato costruito e come, in maniera sempre più raffinata, l'idea dell'esclusione abbia assunto delle forme veramente particolari. vedremo anche come sempre per la legge dei ritorni non tutto ciò che Pinel aveva detto sarà rispettato alla lettera, vedremo dunque che in alcuni manicomi europei la maggior parte in realtà continuerà questa strana tradizione di affiancare ai folli altre categorie di esclusi marginalizzati soggetti indesiderabili. Però stavolta è come se il rapporto si fosse invertito. Ma questo lo vedremo più avanti.